L'aria apertura del bando del microcredito dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è una ulteriore buona opportunità per le tante aziende abruzzesi che l'avevano sollecitata. Una dotazione finanziaria pari a 9 milioni di euro, quella messa a disposizione da questo avviso. Per le persone fisiche l'importo del contributo oscilla da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 10.000. Per le persone giuridiche il minimo è 10.000 euro, il massimo 25.000 euro. Il bando è già pubblicato sul sito del soggetto gestore Abruzzo Sviluppo. L'assessore regionale Sclocco invita i soggetti interessati a presentare in stanza al più presto. Il fattore tempo è fondamentale, le domande possono essere inoltrate a partire dal 9 marzo. 9 milioni di euro per uno strumento che il territorio e anche e soprattutto le donne, devo dire, continuano a chiederci. Uno strumento che consentirà, così come già è successo, di aprire nuove imprese e di aiutare le imprese già costituite, le giovanissime imprese già costituite. Il bando è già pubblicato. Scadrà il 17 marzo. Mi raccomando, come sempre, la tempestività perché andremo ad esaminare le domande in ordine di arrivo. Quindi è importante arrivare il primo giorno, il secondo giorno e il terzo giorno, anche se 9 milioni di euro daranno una risposta congrua al numero di domande. Grazie. 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 Grazie.